che ne sono? mi piace 05 incisione 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 però si possono una rocca lei è diffusata guarda Emilio grazie dai una pinza per favore arriva mi dai a me una si funziona qua da coagulare ce l'ho attaccata a retro bisturi per favore che mi ha bisturi mi hanno visto di piccolo una pezza a me per favore pezza prima prima pezza vai vabbè dammi il bisturi di piccolo si di caricatore per cute ci sono ci sono tocca devi tocca no no ora aspetta Michela tocca qua tocca tocca pocca pocca ok professore anzi 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 a me a me a me a me ci sono due dimarigatori si dimarigatori per favore per cute due per cute una di qua sopra si venga a quattro metterà a quattro non c'è se c'è se c'è a quattro e uno a quattro c'è ok uno a quattro e uno a quattro ok vai tieni un po' che non c'è pazza si Mito se eventualmente vede una dottore tira verso qua c'è la lignalba qua c'è la lignalba andiamo c'è ancora una vediamo perché c'è tutta sola ma non funziona una letta metti così metti il taglio 80 dimmi quando sei pronta vai taglio taglio il giallo 80 ok dove è la semplice qua è la semplice qui è più sotto più sotto ok 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 quando ci sei a 90 questo elettrobistoli si sempre taglio sempre taglio sempre taglio qua giù ma sicura che non lo senti si no no su questo qua ok ok sempre una parte grazie non c'è vedere il musco si non taglio questo posso non taglio grazie questo questo è una prelunga capito perché questo è una cosa che tiene con la stilatore come vi piace ora c'è però sento che a spina quando per frattere ciò di presento la sintesi sopra la sintesi nel retto non c'è una valva più larga per favore non deve così verso l'alto non devi aderci vediamo se tieni sennò cambiamo c'entra abbiamo un altro c'è ancora qua vai sulla linea per arrivare il mosco ok ok vai lì un filo il dito un filo il dito aspettate di aprire un filo dentro per sollevare il mosco sollevare il dito verso l'alto solleva il dito verso lato se c'è una valvola la valvola che tiene i tessuti ok metti il dito vediamo questo ok metti il dito ok solleva il dito e taglia sul tuo dito che non fai danno se c'è una valvola taglia sul tuo dito che non fai danno per la mestiere da me questo qua mi dai che io lo aiuto poi fuori ma questo funziona? va bene va bene andiamo sott'è c'è la vescica vai sott'è vai sott'è mi sentiamo sempre con il dito che non fai danno col dito che non fai danno col dito che non fai danno col dito non fai danno troppi c'è il caldo ha visto che un bacane c'è il massimo è il massimo è il massimo nei miei tempi migliari cambiamo l'altro bistro di questo cuore si non taglia niente o vediamo se la placca sarà l'effetto del... eh... Giulia e poi ci devi dire per l'aria che stiamo sbagliando già ora Giulia Giulia ok sente il coso dottore che ti sento Sam? no... hai una seggia nel mio cuore ok guarda senti il bordo senti il bordo della... si senti il bordo ora un uomo a punta un uomo a punta bordo inferiore non funziona non funziona bordo superiore no... di inizio 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 io c'ho il burrito dietro bordo superiore bordo superiore ci agganciamo sulla cosa si è preciso sulla simplicia ok è ruota qua è la simplicia ok dammi un altro divaricatore un divaricatore un divaricatore un 2 che divariciamo di qua ok aspettiamo il resto parla semplice qua c'è il resto aspetta così aspetta aspira l'elettrico ok vieni qua ok salta il vetro e la mettete qua è già doc eh lo sai aspetti la teniamo? vado ok oh aspetta ok aspetta aspetta pure apriamo la porta il resto praticamente lo dobbiamo tutto su posto su posto su posto eh lo su posto dammi un cobb no ok non ci sono meglio di sperimentare quelle della del dei sedimenterici dei nostri uomini che sono le di sperimentare stessi ok semplicemente no no come si chiama? no come si chiama? l'uomo 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 aspetta una pezza una pezza ok si si ok 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 quindi ti sei aperto la porta certo? sì dobbiamo un po' scorrere un po' di più dammi dammi il cobb quindi stacchi è retto dalla singe se no dobbiamo scorrere il cobb no dobbiamo staccare un po' di più e poi c'è un asco c'è un asco no non deve andare mediale qua forse non deve andare mediale però sì perché è forrato forrato ok va bene io qua ci sono tu sei ora tu a passare le cabagne perché adesso possiamo guardare di là giusto? ok guardare di là cosa ti serve da guardare? ma non ci sono gli strumentari quelli della ok richiede l'aria c'è troppo caldo ok 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 adesso sentiamo il frattore ho già l'appliccio il dito e ho già sentito il frattore come vi ho dato a dire il frango ok si ok c'è il legamento qua per ora ci dobbiamo spollare di qua, già c'è il legamento, aiutami come si chiama? si qua, ok bravissimo ma dobbiamo passare qua sotto noi, dobbiamo passare qua sotto, però di sopra abbiamo i vasi si, quindi siccome non ci abbiamo i posti, andiamo con calma, andiamo dall'altra parte appunto andiamo là, ce li vediamo sopra si, ok, lascia le corde pulite, scusami Michela quando diviene una frattura del cingolo pelvo che deve andare a fare un tamponamento ci metto il tuo calcio la vescica e ci deve andare tutta da questa parte e dall'altra parte che ora stai facendo con le pezze? stiamo al settembre per questo? vado non si se questo? si si, no lui dice quando c'è la frattura da adesso metto una riempita qua non spazio cambiamo a vedere allora dammi il bisturi vediamo passare un pochino in all'altra dove è la spina lì? qui 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 è che tira tutta questa pancia e poi scende tipo una smith peterson la luce per favore una sola una sola poi qualcuno deve fare la cosa certo elettrico elettrico emilio tu le metti da quel lato la devi ritornare la mano scusa me lo davo un po' di spazio e ti ripeto questo vado qua ok metti la mano qua guarda dai una pezza anche a me io ce l'ho qua non ce l'ho qua ti preoccupare glielo è volito per volere c'è la punta lunga qua è la spena fammi un cobo ora mi ha trebisti ancora due devi ricadare i percuti e ce l'abbia bene rievo la pancia così che è meglio aspetta fa più mediale va bene qua ok appena si apre senti l'andito si ancora si sta prendendo adesso si sta prendendo l'uso va aperto vai scendi scendi dai lì questa fascia dai la fascia dopo dai la formulare qua tagliala fa con una fobice una fobice tira questo l'altro e tagli con una fobice vabbè questo ora sta tagliando vabbè taglia anche la pelle che sentiamo la brucia la pelle la brucia la pelle la scende col viso una fobice una fobice aspetta qua c'è il bianco spina metti il tuo dito metti il tuo dito ok forse stacca di fuori stacca di fuori lo abbiamo veduto ma mi metto ci vogliamo mettere una una laparotomica dentro si metto questa laparotomica si metto questa laparotomica ci facciamo poco poco la garzatetta aspetta e ci vedo questa laparotomica diventro di fuori anche di fuori qua c'è una pelle è un mutuo che è già abbastanza staccato ci serve staccare tutto il mutuo d'esterno? ora ci mettiamo il tensore della fascia lata e sartoria il tensore della fascia lata e davanti sartoria, è lo stesso accesso del babbino qui c'è l'articolazione, sartorio, qua c'è l'articolazione siccome la sartura finisce fino all'inizio, ora la tocchi con la mano dentro, impipa la mano e la tocchi la stai toccando? no, anche più dentro ok si, la stai toccando la stessa, mettici un oman, oltre, che dividiamo la mia mano, metti un oman, il pelvic primo lo stai toccando? si sono qua, è più largo, non c'è ok, bravissimo, bravissimo, aspira, ok, fai due foto qua, grazie qua, lo senti bene? tutta la porzione del tetto, si la sento la frattura, la porzione del tetto è tutta libera sono quasi qua davanti, le mie dita si toccano, già sono qua davanti le mie dita si toccano senza questa situazione, se ci siamo toccati la frattura è qua è uscita prima, la frattura è uscita prima la frattura è uscita prima, la frattura è la frattura, e la frattura è qui, la frattura è un picador con il picador con quello anzi c'è la biastrella te l'ha detto prima Corrado non l'avete trovata? no l'abbiamo trovata ma noi non ce la dovremmo avere nelle nostre e in quale kit? nel kit delle pinze di riduzione del bacino me le apri per fuori? ho detto di prenderle ora la viene a fare da qua la sopra non si niente dai cani al dottoressa scusa mi sa dove vengo io dal prof tuo ma non so non si riloggi non si riloggi non si riloggi non mi la placca non mi la placca basta il fobio qui mazzicci il fobio qua senti mi devi comprare una cosa e dottore che vedi qua? si aspetta ho il canante nere dentro seguite il bordo infatti questo lo volevo fare seguite il bordo ma non conviene il fobio mettere dall'altra parte no, per il mio fobio non si 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 io sto toccando la punta del fobio ma stai niente piano si 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 ok 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 faccia 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 si 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 mettici un filo a quanto è questa cosa? a quanto è di? vabbè anche a 12 andava bene com'è? mettici un filo qua così lo prendi e te la chiesi no ma riesco a passare ok vabbè 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 aspetta aspetta vabbè però vabbè c'è la fine vabbè ora è dentro dove mi deve mettere sotto? vabbè appunto ok questa placca va girata guarda un po' va girata guarda una ora lo vabbè ora la giriamo vabbè va ti è perso? a me sembra un po' obbligua